Non andate via di corsa dopo terminata la messa, rimanete un momento in mia compagnia, traetene profitto e lasciate che anch'io possa trarre profitto dalla vostra compagnia. Io rimango con te tutto il tempo che tu vorrai tenermi con te. Se mi parli durante tutto il giorno, dedicandomi qualche parola durante le tue faccende, io ti ascolterò. Io sono sempre con voi, siete voi che vi allontanate da me. Uscite dalla messa e per quel giorno è quanto basta. Avete osservato il giorno del Signore e tutto finisce lì. E non pensate che mi piacerebbe condividere la vostra vita familiare con voi almeno in quel giorno.